nuova interfaccia di linkedin per il desktop ovvero per quando accediamo tramite computer tipicamente che cosa ha cambiato prima battuta direi che assomiglia molto di più a facebook in realtà ascoltando quello che ha detto linkedin questo cambiamento questa trasformazione dell'interfaccia è dovuta a esperienza l'esperienza che hanno avuto tramite l'app del comportamento dei loro utenti hanno deciso di rendere contenuti più accessibili più fruibili in maniera più semplice in effetti assomiglia molto di più a un app adesso ora siccome i video vengono visti non sempre fino in fondo voglio cominciare dalle conclusioni voglio dire subito le mie conclusioni sulla nuova interfaccia e poi entriamo nel dettaglio le mie conclusioni sono queste questa nuova interfaccia di linkedin chiamiamola 2017 è sicuramente molto più snella molto più funzionale e incontrerà i favori di chi prima faceva un uso limitato di linkedin oggi troverà più facilità nel muoversi all'interno della piattaforma e nel fare le cose base chi invece aveva un utilizzo faceva un utilizzo più avanzato di linkedin in prima battuta farà più fatica e questo almeno per due motivi primo perché ovviamente quando c'è un cambiamento bisogna andare a trovare le cose nei posti nuovi e più cose sapevo prima più cose devo andarmi a cercare questo è intrinseco ma in seconda battuta perché questa interfaccia più semplificata rende a volte più complicato andare a trovare alcune funzioni avanzate o addirittura alcune funzioni avanzate sono state proprio eliminate oppure sono rimaste ma solo nelle versioni di linkedin a pagamento come ad esempio il sales navigator quindi questa è un po la mia conclusione vediamo adesso nel dettaglio che cosa è cambiato allora la barra di navigazione è diventata più grande e blu presenta delle icone anche più visibili e sostanzialmente divisa in sette aree che sono home cioè questa che è il feed principale che fra poco guardiamo in realtà questo tasto è è un duplicato del logo linkedin qua sopra tutte e due portano qua poi abbiamo rete per i contatti lavoro per tutta la parte appunto le cerche di lavoro la messaggistica che già c'era vedremo che non è cambiata molto le notifiche questa è una parte che è migliorata secondo me e il menu tu dico il menu perché le cinque precedenti non sono menu posso solo cliccare mi portano su una pagina poi abbiamo il menu ufficio e infine pubblicizza partiamo da home cioè quello che si chiama in gergo il feed principale l'insieme di notizie in realtà la home offre a sinistra un'anteprima del mio profilo con due informazioni chi ha visitato il tuo profilo e le visualizzazioni del tuo post queste informazioni prima erano raggiungibili solo tramite menu adesso ci posso arrivare immediatamente dalla home page e questa è una semplificazione una velocizzazione a scapito ad esempio di informazioni come il ranking prima sapevo quante persone quanto era cambiato settimana su settimana le visualizzazioni del mio profilo e come stavo facendo in funzione della mia rete oggi questo ranking purtroppo non c'è più ed è un peccato perché era interessante ed era anche un buon un buono stimolo e ne parlavo ad esempio nei miei corsi su linkedin seconda battuta abbiamo la parte centrale sopra posso condividere un articolo una foto un aggiornamento oppure scrivere un post tutti gli effetti e sotto poi il feed con tutte le notizie che linkedin filtra in funzione della mia rete dei miei interessi e quant'altro sulla destra la parte tipicamente per gli annunci commerciali e questo è l'home che è rimasta uguale ha cambiato un po la grafica sostanzialmente ma è questo aspetto del profilo a sinistra che prima non c'era la parte di rete una parte invece che è cambiata un po se faccio clic su rete cosa succede entro nella mia parte dei contatti ma mentre prima vedevo i miei contatti adesso non ho più questo menu ho solo questa scelta che mi porta a in questa pagina dove in alto al centro avrò gli inviti in sospeso se qualcuno mi ha mandato una richiesta di collegamento su linkedin comparrà qua con la possibilità di accettare o ignorare l'invito sotto le persone che potrei conoscere che mi suggerisce linkedin e sulla destra perdono sulla sinistra qua tutti i miei contatti in questo caso 1135 posso fare clic sul numero o su visualizza tutto è la stessa cosa e entro nella mia rete di contatti e qui c'è uno dei primi cambiamenti ad esempio non posso più taggare i contatti taggare i contatti voleva dire che prima li potevo raggruppare per categorie che mi interessavano potevano essere clienti fornitori oppure avrei potuto distinguere fra candidati per la mia azienda o candidati per ruoli diversi e così via oggi questo non si può più fare quantomeno non da qua anche qua non c'è più il menu è tutto molto semplificato in alto a destra però gestisci i contatti importati e questo è abbastanza utile perché mi porta non solo a fare questa cosa ma anche a farne un'altra che è l'esportazione dei contatti che vedremo fra poco qui sono i miei contatti importati cosa sono i contatti importati sono tutti quelli che io ho inserito magari condividendo la mia rubrica di indirizzi ed ecco perché a volte linkedin li suggerisce se non li voglio se voglio cancellarli perché non voglio che compaiono posso selezionarli da qua e fare elimina selezionati in questo modo posso eliminarli la cosa importante è che io cancello solo l'importazione dei contatti cioè se uno di questi è anche un mio collegamento su linkedin non scompare come collegamento semplicemente viene eliminato da questa rubrica dei contatti importati esattamente come ho fatto adesso dicevo nelle azioni avanzate che magari non era intuitivo capire da prima in gestisci contatti importati posso esportare i miei contatti facendo clic qua sopra vengo portato si apre in realtà una nuova un nuovo tab completo in cui posso scegliere come esportare l'archivio dei miei dati è un'operazione che vi consiglio di fare nel momento in cui lo fate per sicurezza linkedin chiede la password inviando il salvataggio è completato e il file viene inviato viene inviato nel senso che ricevi una mail con il link per scaricare questo file tornando sulla rete questi sono gli aspetti principali che sono cambiati sulla parte del lavoro non è cambiata radicalmente forse la cosa più importante che linkedin ha annunciato è che adesso quando comparirà un'offerta di lavoro e che potrebbe interessarti e qui ce ne sono alcune linkedin cercherà di fare uno sforzo per darti l'opportunità di farti vedere immediatamente quali contatti tu hai già all'interno di quell'azienda e quindi facilitare il rapporto con loro ad esempio RB sta cercando una persona io ho un collegamento diretto che potrebbe potrei chiedere magari informazioni o mettermi in contatto e così via questo non era presente nella versione precedente questo vale per la parte lavoro a parte messaggistica sostanzialmente non è cambiata è un po più graficamente più accattivante ed è un po più immediato mandare messaggi come entrare in contatto con le persone su linkedin ma per il resto è sostanzialmente la stessa la parte di notifiche invece è migliorata notevolmente non solo è cambiata l'icona che è diventata una campana ma adesso ha un dettaglio maggiore delle notifiche quindi posso leggere meglio e capire meglio che cosa è successo chi ha fatto che cosa magari anniversario di lavoro qualcuno ha condiviso i miei contenuti e così via poi c'è il menu tu che ricorda un po' il menu precedente è solo più snello più semplice la quale posso andare a vedere il mio profilo posso gestire le mie impostazioni esattamente come prima è molto comodo adesso posso gestire posso andare direttamente sulla gestione di una pagina aziendale ad esempio quindi questa è una sorta di scorciatoie verso funzioni tipiche per chiudere le sette aree principali la settima è l'area di ricerca area di ricerca che è cambiata un pochino anche qua bisogna imparare si possono fare ancora ricerche avanzate ad esempio andando qua sotto search for people with filters cosa succede se faccio click qua in basso vengo portato sulla pagina di ricerca avanzata che c'era anche prima solo che prima era proprio in generale compariva su ogni ricerca e quindi potrei mettermi qua e fare alcune ricerche o selezionarle magari ridurle usando sulla sinistra le persone ad esempio potrei cercare ibm solo per prendere un esempio di aziende e poi sulla parte destra usare i filtri che sono presenti per selezionare interno dei miei contatti se li voglio di primo livello di secondo livello e così via oppure non so la località in cui sono in italia nel regno unito e così via questo ricorda un po la precedente solo diverso il modo di arrivare a queste informazioni l'altra cosa che prima nelle ricerche sempre i contatti del primo livello comparivano in testa adesso non necessariamente l'ordine con cui vengono presentati i risultati è diverso qua trovo quello che potevo cercare prima per persone offerte di lavoro cosa voglio di bm in realtà mi interessano le persone mi interessano le offerte di lavoro mi interessa trovare le aziende che si chiamano così dei gruppi collegati e quant'altro diciamo che linkedin adesso lo fa in automatico la casella di ricerca è sostanzialmente vuota però posso utilizzarla magari utilizzando dei filtri ad esempio potrei cercare delle persone che hanno lavorato in due aziende diverse utilizzando quelli che sono gli operatori tradizionali nel mondo il computer and e or and mi trova tutti i risultati che hanno sia anix che ibm in questo caso come chiave di ricerca or mi trova quelli che hanno uno o l'altro o eventualmente anche entrambi ovviamente posso raffinare queste ricerche renderle più complesse magari vorrei cercare qualcuno che ha esperienza sia anix che ibm ma anche che sia specificamente nel settore t lo posso fare o scrivendo qua la keyword come ho fatto oppure potrei andare qua e selezionare come fare tramite reparto in realtà il cercare del reparto è una delle funzioni premium come filtro non è presente qua la funzione quindi potrei mettere su marketing manager ad esempio e cercare con quello se ho accesso a linkedin premium altre cose sulla ricerca fondamentali non sono cambiate bisogna fare un po di prove per capire imparare a prenderci la mano ma in realtà è molto intuitivo e forse per alcuni versi una volta che uno si è abituato è più semplice di prima proprio perché non ci sono tante sotto pagine o versioni ma si parte da qua e poi si filtrano i risultati oltre a queste oltre a queste sette macro aree principali ecco forse vale la pena di tornare un attimo su tu prima però delle altre e fare visualizza profilo perché anche qua sono cambiate un paio di cose la prima cosa che è cambiata è che l'immagine di copertina quella che sta qua dietro sostanzialmente al profilo che adesso si sta caricando ha cambiato le dimensioni io credo quello che ho capito che il formato ideale è 1300 per perdon 1800 per 300 per avere una buona centratura linkedin in automatico importa la vecchia ed ecco qua che infatti non la mia non va più bene perché parlare in pubblico scompare la p si legge male perché va dietro l'immagine bisogna quindi rifarla e poi tramite qua giorno a foto di sfondo mettere quella nuova altra cosa radicale diciamo che è cambiata nel profilo è che non si possono più spostare le sezioni precedentemente io potevo decidere come il mio profilo compariva e spostare in alto in basso alcune sezioni e quindi dare priorità alle mie esperienze di lavoro e traguardi raggiunti oggi non posso più fare questa cosa quantomeno per il momento non è più possibile il fatto di trascinare in alto in basso le sezioni e riordinarle poi dicevo mancano alcune delle statistiche precedenti e un'altra cosa che è cambiata è che le i link nei contatti adesso non sono più schermati e per spiegarmi meglio prendo un profilo ad esempio il mio amico e matteo e cerco di mostrare che cosa significa supponendo che ne abbia che abbia del link ma immagino di sì se no proviamo con un altro contatto ma quando adesso noi guardiamo i profili di altre persone ecco qua ci sono ad esempio dei siti web prima io non vedevo questo indirizzo vedevo solo scritto sito web personale facendo clic venivo portato su quel sito la stessa cosa adesso non è più così adesso compare il link presteso quindi chi utilizzava dei link magari molto lunghi con delle chiavi perché tanto non si vedevano oggi l'effetto non è graficamente molto bello e magari volete utilizzare un servizio come quelli che riducono le urla qualcosa di più semplice di più corto solo per praticità non è un aspetto funzionale perché facendo clic non cambia nulla è solo un aspetto visivo o estetico ancora sui profili come vedete profili sono diventati in con grafica diversa e altro aspetto fondamentale sono le competenze le conferme in primo piano prima ce n'erano le prime dieci comparivano magari scritte più in piccolo oggi ce ne sono solo tre per profilo questo è un altro cambiamento del nuovo profilo di linkedin ancora meno ufficio il menu ufficio tiene diciamo parti forse secondarie per alcuni di linkedin come la pubblicità o linkedin learning o slide share per condividere presentazioni però è anche un posto dove trovare i gruppi che sono finiti adesso qua per cui se voglio andare a visitare i miei gruppi o a gestire i gruppi che sto gestendo o mi salvo un link diretto oppure devo utilizzare questo menu per entrare sulla pagina la parte dei gruppi anche qua ha cambiato un po la grafica ma è rimasta simile a quella precedente quindi ho a sinistra un feed e a destra i miei gruppi più attivi se voglio gestire i gruppi che gestisco direttamente io ho il menu i miei gruppi qua in altro che mi riporta mi fa vedere i gruppi di cui sono o proprietario o amministratore che devo gestire oppure ancora la versione crea gruppo per creare un nuovo gruppo queste sono le modifiche principali di linkedin queste sette aree macro aree e come hai visto ci sono meno menu meno funzioni meno possibilità di fare click quindi è tutto più semplice per alcuni versi ma forse alcune cose che facevi prima devi scoprire adesso come farle se c'è qualcosa che non trovi puoi sempre lasciarmi un commento a questo video o fare i tuoi commenti cosa pensi di questa versione di linkedin e lasciarli nei suggerimenti grazie